La mia super pazienza ha un limite, devi fare qualcosa per internet. E anche per la tv, sono stanca di spiare quella super vista in casa dei vicini. Ce l'ho. Sky e Fastweb. Serie tv incredibile e internet super veloce. Come me. Anche noi finalmente saremo una famiglia normale. Sì! Sì! Super veloce, super spettacolare e a un prezzo super. Sky e Fastweb a soli 20,90 euro al mese per 18 mesi. Chiamaci!